musica ho portato un po' avanti off camera ho trovato 5 diamanti non ho registrato cosa fa una bella bella qua mettere i vetri un po' avanti off camera ok 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 va bene la stagna pesa tutto ma che è che me sta facendo sei svegliato guarda quanti zombie come va Grazie a tutti. Ammazziamo un po' dai, so qui ci siamo. Troppi mostri. Ma che mi serve l'arco? Vabbè, facciamo così. Come vuoi? Mettiamo più scherzi così abbiamo... Forse... E basta. Vabbè, prendiamo. Ma quando è volgeva troppo star con la canna? Vabbè... 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 Molto gentile E invece No, tanto c'ho questo Che bello, il guscio di tartaruga Ma non, sono scarso Ma non, con l'arco Ma non, 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 non Non, 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 non wow che bello dai mettiamo a cuocere questo ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ci sta Giusto Subito Ok 12 Ma cosa vuoi? Signora Anima vai video Grazie per le tue osse Ma come fai a non bruciare? Grazie anche per le tue osse Yeah Andiamo a mettere là Questo l'ho fatto uno là L'ho fatto più grande ovviamente Minha 22 patate Non ti sono Yeah No 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 Temo il nostro patate No Sov'ya tolava Grazie a tutti. 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 ... va a tutti. ... ... ... ci sta... ... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ......